in esclusiva siamo riusciti a infilarci dove c'è la moda che si sta preparando per la serata di carri la serata che riguarda praticamente la moda amare guardate qua è pieno di modelle bellissime e io sto cercando di raggiungere marina fausti che è la consulente per la moda ecco finalmente troviamo marina fausti marina benvenuta a uno mattina estate buongiorno buongiorno noi siamo già stravolgi già è prestissimo ho scoperto finalmente chi era aif che questa mattina vi ha dato il saluto a tutti quanti in tunisino e in italiano quindi una bellissima modella adesso è arrangiata da modella tra virgolette apparecchiata apparecchiata non si riconosce senti marina è una sfilata bisogna caricare gli accessori e infatti a quest'ora del mattino voi già siete carichi a mille già siamo carichi a mille tra un po arriverà la debacle e poi ci riprenderemo stanotte sicuramente ci porti un po spasso per esempio tu sai che la moda non è fatta solo di abiti da sera di costumi da bagno qui c'è il workwear è una nuova parola vuol dire la moda ispirata agli abiti del lavoro per cui c'è il blu militare è un po' il nuovo casual andiamo a vedere ci sono reti vedi le reti le trasparenze le reti capri il mare questa è la parà gli aranci guarda come sono studiati gli abbinamenti ci sono i sandali alti poi altre case ci sono per la c'è biaggiotti c'è genni c'è mariella burani c'è la perla ritmo di perla devo guardarmi in giro per ricordarmi andiamo veniamo veniamo con te andiamo a cercare andiamo amici stiamo seguendo marina fausti che abbiamo visto tante volte promuovere la moda in televisione dove siamo arrivati marina qui siamo gli abiti da sera per esempio per fare un gergo usare un gergo moda è tornato il lurex e qua ci sono tutti questi colori chiari lurex degli abiti molto donati io devo dire che marina fausti ci sta dando delle esclusive pensate che a nessuno prime a nessuno è permesso di entrare in questo luogo il giorno stesso della sfilata tra poche ore ci sarà questa sfilata marina grazie infinite niente grazie a voi marina abbiamo visto abbastanza grazie tutto il resto lo vedranno i nostri amici di rai uno questa sera in diretta dopo che tu l'hai promossa da grande consulente quale sei stata perché dobbiamo dire che sei stata veramente straordinaria grazie grazie a tutti marina grazie in bocca all'uvo per questa sera amici di una mattina ci vediamo dopo in piazzetta per giocare finalmente con milli carlucci e pacchi valente che sono i conduttori della serata a dopo ciao